e tu dovrai venire dopo sei di pugnaletti dammi due pugnaletti qualche puttana sono la banca in italia il problema che mi sa c'è un po di cobertà cominciamo a me nessuno per se c'è qualche arma migliore che ci aveva lui magari che questo caso vabbè c'è un marco non mi dò lo spalone perché io tanto matti ma bambini all'arcosso di drago arcos di drago c'è l'occento di arcos sui capelli trottini pugnaletti che ho dato anche la spada mia che è la migliore di tutti fa 40 setti di danno rispetto alle mie io non la utilizzo tanto perché dovete combattere noi ma possiamo essere una scuola portata di mano spettano ascensore tu c'è stata giù si raga in basi per avete i dati io uno me ne so tenuto allo gremi come faccio ora ci mettiamo andiamo li portiamo e ammazziamo sti arcieri di sti guardi che stanno qui davanti e gli friagghi sia l'arci si ci stanno un arciere una volta con i coltelli mi sa in un'altra volta con l'arco che ciò si rende e gli friagghi chi se ci ha fatto forti anche io spero sapere che devo dormire non fai l'interno l'arma se non gli acerci persano perché è morta con la guardia che guardiamo ok attacco questo sulla destra sulla destra sulla destra sulla destra corrono corrono sulla destra per la montagna io sono morto eh che cosa è sinistra poi vieni vieni la montagna adesso vieni giù vieni giù forse il porter ero chi 때 mi rasgherka perché se lo so state uccidendo io vi ora non ci penso che ne ho è una volta insomma è avanti si è avanti si ha fatto la fronte è avanti è avanti mi sta sparando la fronte adesso è avanti è avanti non male la massa ok, lo caro ragazzi visto che sono stato utile cazzo non sono morto non sono morto non me lo dico atti lo sai che ti stanno targettando 50 arce si ma mi stanno targettando ti ho fatto a prenderlo si ce la faccio perchè tu stai qui mezzo a 50 guarda che ti potrebbero scettare perchè di là ci sono tutte ceste non ho così tutto è rotto così io entro più la roba è scosciuta però a fare così rada entro a scoprire e trasfugio la roba ma c'è una cessione dovremmo vedere di romperli quella quella base a terra per filmare quelle guardie la cioè quella quelli se loro sono tutti su quella balconata adesso è distrutto tutta quella balconata l'icca da un portiere no non posso salire rimango su spazionare la roba di matti io no io che la processa ma tutta la roba lì e faccio l'ho detto io ho scoperto mi vado fuori ma potremmo aver fatto una scatola fuori che matti ci abbiamo troppa roba raga dai sono in base a loro sono aperte le ceste perché ci ho tirato le bombe le 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 stanno carichettando io sono appeso un mio sono morto sono morto sono morto di corazzano minano attento scappi allora non porto nemmeno la sua roba terribili e scappi vaga e ora si inizia a giocare fatti seguire che ha fatti targettare che io si riesce a prendere il mio cadavere a terra che sono rimasto un'altra volta l'obiett ragazzi sto facendo tipo mission in posto ma ragazzi sono appeso al soffitto ma in quel piano di sopra di mini si cazzo se non mi targettano altre roba mi ammazzano ma ci sono tutte le ceste e dopo lo fai, mi fai uscire fuori e quello fai e no ma dopo non c'ho più l'agente però poi devi rientrarci perchè dovevo avere qualche punto di distraire l'agente no no un cazzo con un farlo sei distrazione dai io lo dico è morto vabbè c'è l'agente no ancora no però ora si però ragazzi c'è il mio corpo posso riprendere tutto il corpo comunque ho fatto una pozione da mia mare a bestia quindi che cosa si stava un fai spavano la porta una macchina percorso percorso io se c'è un po' mi piace sopra la classe personale di questo porco dio ma rega mi serve qualcosa guardatevi ritornare strozzati con la faccia di merda visto il problema che su questa guardia bagarare non riesco a togliere dalla io in questo momento sono un figo ma te sei dentro sì come cazzo fa entrare come mi scioltano ma io sì io corro come un pazzo non ne capito niente ho capito come devo fare a bypassare quella quella guardia tutto 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 da passare bene da me che mi devi stare in passare no su uomo ragno o guarda ma fatta lì è l'entrata non di pagare così la raga io prendo tutto prendo pure i fonti 2 non me ne frega se non facessimo delle casse dando cose più importanti ci facciamo ma vaffan bagno questo starter un mio dio no porco dio in cianto mi sembra mi sento osso ma dai ma dio cristo ma ancora me siete brutti morite e scendi e mi ricordo è nero ma va una mia bruciata con mio dio quanti impasto al chenico usa i detendori dei segreti ma porca puttana neanche io se ancora adesso come Gesù bordo guardo mi viene viene nero si vede incazzato guarda la parte con la messa un piccolo non vendere di questo poi ci stanno eccomi cazzo fanno di cipo fai si è messo la corsa al massimo sei il canguro ma tu in quel piano sei il primo o secondo? in questo momento sono il secondo mi sta rubando tutto l'inventario si però non riesco a rubare l'inventario di queste persone che ci sono quanti che mi targettano quindi si se fai un po' di casino giù riesco a rubare pure altra roba aspetta ho piazzato una bomba però ora devo girare l'arco per la salta nuova ah perchè non c'è spazio sufficiente né di inventare anche perchè non posso rubare più io si ma buttiamo stiamo qua porco dio un cascazzo addosso a loro e no eh dai si è baggato ancora un corico oh merda merda cazzo porco dio cosa cazzo sta facendo mi resta capito mi resta capito oh merda scusate 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 chiamili chiamili a boda sei da questo lato sei da questo lato sei da questo lato e fatti targettare però sei da parte di chiudo io sono sopra il te da questo lato vi allo no ma se io ascoltati targettare da quel lato io vado stanno entrando loro raga a me mi sembra mano questa guardia qua perchè mi starò allora davanti a me che appena scendomi shotta scendere lui in capitale la guardia salghietta capitano 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 e e questo muore ma ormontana ma porca non ci sono non ci sono ma lì ma dove c'è la casetta di gioste tappesi ah no ma ora si deve stare l'aio ma non entra no se il fermatore l'ascello stava ma non glielo puoi mettere una bomba su quel balcone si posso però non ha pure che non trolla no facciano danno uiii non va un cazzo la bomba all'ora uiii 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 per quanto sono entrato io sono entrato io sono entrato io sono entrato io porco dio c'è un altro guardo